grazie grazie e buonasera a tutti amici ascoltatori super flash le finali in questa puntata la cavalieri si costanza la risposta francesco di cagno record personale 51 milioni il cavaliere del chiaro di luna la risposta esatta don pippo porter record personale 37 milioni e mente secondo quel personaggio vicino al dalai lama in tutto il mondo lo cercava cultura cinese la risposta valentino compassi record personale 34 milioni super flash le finali la super sfida dei campioni domani sera alle 20 e 30 sugli schermi di canale 5